Buongiorno, oggi è il primo giorno di Readathon, so già che non riuscirò a portarla a termine, partiamo benissimo con questo video perché in realtà in questi giorni sono successe un po' di cose, quindi nei prossimi giorni so già che sarò super impegnata e non avrò molto tempo per leggere quindi apporterò qualche modifica alla mia TBR, cercherò di leggere più fumetti in modo da coprire le varie challenge ad esempio so che non riuscirò a leggere, io sono un gatto perché ha 400 pagine, 480 adesso non mi ricordo comunque ho un libro molto lungo che so già che non riuscirò a leggere e quel libro mi copriva diverse challenge come sapete dal video della mia TBR quindi sto pensando di leggere altre cose, adesso nei prossimi giorni comunque vi farò vedere, io intanto sono ancora a casa dei miei sono stravolta perché è mattina presto, sto facendo la valigia, fa un caldo terribile e stanotte la Cibi ha fatto un disastro nel senso che mi ha svegliato, stanotte ha preso questo brutto vizio di svegliarmi con la zampina in realtà lo fa anche con i miei, che nel cuore della notte arriva con la zampina e dà dei colpezi sulla faccia perché vuole le coccole e stanotte in particolare a un certo punto sentivo così caldo che ho tolto il lenzuolo e mi sono sentita toccare i piedi e ho preso una paura che non immaginate ed era la Cibi che mi cosava così con la zampetta, vabbè Patatino, adesso apro la finestra ma si è svegliato Topino! Io adesso vado via, non sei triste? Sei triste che vado via? Non mi frega niente Gli bastano le coccole E' super terapeutico fare le coccole comunque a Sersi perché è super morbido e soprattutto a lui piacciono le coccole sul pancino quindi è proprio rilassante La prima lettura che ho intenzione di fare per inaugurare la Reading Rush è il volume 3 di Beastars Questo sarà il fumetto che coprirà la challenge del protagonista non umano Infatti tutti i personaggi di questo fumetto sono degli animali Visto che è un manga penso che lo leggerò sempre nello stesso punto ovvero su questa bellissima coltrona casa dei miei E... e niente Ho terminato la lettura di questo fumetto che mi è piaciuto un po' meno dei precedenti due Però una cosa che mi è piaciuta tanto è che per una volta usciamo dall'ambientazione tipica di questa storia ovvero la scuola C'è infatti un ambiente totalmente diverso che permette di avere uno sguardo un po' più ampio su una delle tematiche principali del fumetto ovvero la diversità In questa storia comunque si parla di erbivori, carnivori che in una ipotetica società convivono ma ci sono comunque delle difficoltà Molto interessante perché comunque è come se affrontasse di fatto delle tematiche del giorno d'oggi dalla discriminazione al punto al sentirsi inadeguati non se stesse a cercare di capire qual è la propria strada Per questo è un fumetto che mi sta piacendo veramente tantissimo e come al solito non vedo l'ora di leggere il seguito Eccola la piccola strega La piccola gattina di satana Che mi hai tenuto sveglia tutta stanotte perché volevi le coccole e poi quando durante il giorno voglio fartele mi ringhi contro Ma sei messa bene? Non mi frega niente anche adesso mangia quelle due crocchette che ha lasciato dalla mattina Buongiorno, oggi è mercoledì Ieri non ho fatto alcun aggiornamento perché è stata una giornata un po' me però ho degli aggiornamenti di lettura da fare Innanzitutto ho terminato l'ascolto di Benevolenza Cosmica di Fabio Bacà libro che ho scelto per la challenge del leggere l'esordio di un autore Questo è il primo libro di Fabio Bacà Edito da Adelphi E' uscito recentemente come audiolibro su Storytree quindi me lo sono ascoltata Non è affatto il libro per me Forse lo sapevo già Se l'avessi dovuto leggere lo avrei abbandonato L'ascolto mi ha facilitato un po' più le cose perché ha uno stile abbastanza ostico La storia è veramente un po' folle Verso la fine mi è piaciuto decisamente di più Però per il resto non è il libro per me Sto continuando poi invece Tre Stanze per un Delitto di Sofianna Sono abbastanza all'inizio Sono tipo a pagina 78 Su 300 Quindi oggi voglio andare assolutamente avanti con questo Che ho scelto invece come Libro che avrei voluto leggere l'anno scorso E libro con un titolo di almeno 5 parole Oggi è lunedì 29 Vedela non si vedrà mai Comunque fidatevi La challenge si è conclusa ieri So che in questi giorni non ho filmato tantissimo Uno perché avevo tantissime cose da fare Ve lo avevo già annunciato comunque su Instagram Che erano successi degli imprevisti Che avrei avuto quindi molto poco tempo Per essere attiva in questa challenge Che probabilmente non avrei letto tutti i libri Non sono riuscita a vloggare come desideravo Però cerchiamo di tirare un po' le somme di questa challenge Innanzitutto come avete visto Ho dovuto un po' stravolgere la mia TBR Che in realtà non ho stravolto completamente Perché non ho letto Io sono un gatto Al suo posto ho letto Beastars E Benevolenza cosmica di Fabio Bacà E poi ho letto altri tre libri Fra sabato e domenica Perché ho avuto abbastanza tempo libero E quindi mi sono impuntata Che volevo assolutamente raggiungere L'obiettivo e la challenge dei sette libri Anche perché sul sito di Reading Rush Che vi lascio linkato comunque Questa è in descrizione Si poteva oltre a inserire varie statistiche Quindi quante pagine si erano lette giorno dopo giorno I libri eccetera Era possibile anche selezionare le challenge Che si erano completate Per ogni challenge c'era un bollino Una specie di spilletta di beige E sono entrata assolutamente in fissa Ne volevo il più possibile E quindi da prima mi sono impuntata Con l'obiettivo di raggiungere le mille pagine E ce l'ho fatta perché ho superato le 1200 Poi appunto volevo arrivare ai sette libri da leggere E ce l'ho fatta anche in quel caso Quindi sono troppo contenta Chiacchiere inutili a parte Tiriamo un po' le somme Andrò molto velocemente sui libri Che vi ho già mostrato Di cui ho già parlato Come ad esempio Beastars di Baru Itagaki Il libro da leggere Con protagonista non umano In questo caso appunto sono degli animali L'esordio letterario che ho letto O meglio ho ascoltato È stato Benevolenza Cosmica Di Fabio Bacà Il libro che volevo leggere l'anno scorso Più il libro con un titolo lungo Almeno 5 parole E tre stanze per un delitto Di Sofì Hanna Rimango ancora abbastanza perplessa Da questo libro Magari vi linko nelle scritte Questa è in descrizione La recensione Perché lì spiego veramente tutto La mia perplessità è legata al fatto Che sembra un libro della Christie Quindi il mio dubbio è Ma questa autrice voleva emulare la Christie Dove sta il suo tocco In questa storia Perché secondo me non c'è Non c'è il tocco di Sofì Hanna In questa storia Poi magari sono io che non l'ho notato Tra l'altro anche il personaggio stesso di Poirot È come quando vi cambiano il doppiatore Del vostro personaggio preferito In una serie tv O comunque di un personaggio qualsiasi Avete presente quella sensazione Quando sentite la voce diversa Il doppiatore diverso E vi sembra Che non sia più lo stesso personaggio Io ho avuto la stessa impressione Con il puoro di questa storia Quindi questo fatto Sommato al fatto che Non riesco a capire l'intento dell'autrice Perché non trovo particolarmente La sua impronta in questa storia Ma mi sembra quasi che volesse emulare Una storia della Christie Mi nasce un tantino perplessa Però togliendo questo Il caso è molto molto interessante Una storia comunque molto carina E se vi piace il personaggio di Poirot Penso che lo apprezzerete Perché è molto presente in questa storia Parlando del vero Poirot Ho letto poi Alla deriva di Agatha Christie E il libro con la copertina Viola Di cui ho visto anche L'adattamento tv Che devo essere sincera Ricordavo A memoria Sono rimasta un tantino scioccata Perché il finale Del libro e del film Non è lo stesso Il libro finisce in un modo Il film in un altro E se devo essere sincera Ho preferito molto di più il film A parte il fatto che Poirot È sempre presente Mentre in questo libro C'è e non c'è Ma poi proprio la conclusione Secondo me È un po' più logica Dal mio punto di vista Quella del film È un po' più agghiacciante È un po' più Psyco Più cupa È una cosa che Mi piace particolarmente Anche nel libro In realtà C'è un personaggio In particolare Che è particolarmente Malvagio Però secondo me Viene reso molto meglio Anche se non si dice Comunque Viene reso meglio Nel film Rispetto al libro E soprattutto C'è la scelta Di un personaggio Più o meno secondario Che nel libro Per me È fuori di testa E riguarda Un personaggio femminile E mi dispiace Un casino Cioè Ho finito il libro E ho detto Ma Christie Come hai potuto farle fare Una fine del genere Cioè Perché Ho letto poi La ragazza scomparsa Di Shirley Jackson Che era in realtà Nella mia TBR originale Per la Reading Rush Sono contenta di averlo letto Perché è una raccolta Di tre storie Appunto Di Shirley Jackson E devo dire Che mi è piaciuta molto Questa raccolta È andata In crescendo Devo dire E il mio compagno Mi ha detto Che è un ottimo inizio Per approcciarsi A questa autrice Perché questi tre racconti Hanno comunque dei tratti distintivi Dello stile Della autrice Quindi dal momento Che mi sono piaciuti molto Penso che poi Leggerò Un'altra sua storia Sono dei racconti brevi Quindi non sto A raccontarvi proprio Nel dettaglio Quello che succede Comunque non sono particolarmente Thriller O scuri Però c'erano comunque Da una parte Una critica Alla società Dall'altra C'è un racconto Che provoca tantissima Ansia e angoscia Se non sbaglio Proprio intitolato Incubo Comunque devo dire Che è stata una lettura Veramente piacevolissima L'ho divorata Gli ultimi due libri Che ho letto Per arrivare ai set Sono I Watson Di Jane Austen Che si tratta di una storia Incompiuta Quindi è soltanto Una parte Di una storia Che non sapremo mai Come andrà a finire Anche se c'è un piccolo accenno Nell'errore di questa storia Del probabile Finale Comunque devo dire Che è stata una delle letture Più belle di questa settimana Nonostante appunto Sia soltanto una parte E mi è piaciuto tantissimo Perché ho ritrovato Quello che mi piace Di questa scrittrice Mi piace il modo in cui Affronta in particolare I personaggi femminili In questo contesto Il settecento inglese Parlando di borghesia I balli La preparazione delle ragazze Per trovare marito Perché ai tempi Era diciamo L'unica occupazione Delle donne Trovo molto interessanti I personaggi femminili Che ci presenta Jane Austen Soprattutto perché A volte si trovano In situazioni di difficoltà In questa storia in particolare Si trovano In ristrettezze economiche Nonostante non siano Particolarmente felici Di dover A tutti i costi Appunto Cercare marito E' quello diciamo Lo scopo che la società Ha previsto per loro E quindi In un certo modo Si devono adattare Anche se hanno delle personalità Molto forti Che vanno un po' in contrasto Con tutto questo E' una lettura Veramente molto molto piacevole Se vi piace la scrittrice Ve lo consiglio L'ultimo libro L'ultimo libro che ho letto Non mi è piaciuto particolarmente Del macellaio di Shandor Maroi Io ho già incontrato Questo autore Con le braci Che non mi aveva fatto impazzire Probabilmente Non è l'autore Per me È uno scrittore Ungherese Quindi mi incuriosiva particolarmente Per questo Il macellaio è uno Dei suoi primissimi racconti E gira tutto attorno Ad un personaggio Otto Che è particolarmente Oscuro Questa storia Non mi ha lasciato granché E infatti sono abbastanza Delusa Però da una parte Ho trovato interessante Il voler affrontare Questo personaggio Molto controverso Sto cercando Di non entrare Troppo nei dettagli Perché sono 98 pagine Quindi Svelare troppo dettagli Mi sembra Controproducente Comunque Se vi piace l'autore Se ad esempio Vi è piaciuto Le braci O un altro suo racconto In Italia Sono stati pubblicati Tanti suoi romanzi Probabilmente Apprezzerete anche Questa storia Che appunto Un risvolto Un po' più oscuro E per quanto Mi riguarda Mi è piaciuta L'intenzione Di raccontare Un personaggio Appunto Un po' più diverso Nel contesto Comunque Della guerra Ma L'ho trovato Un po' troppo Superficiale Nel senso Che mi aspettavo Andasse un po' più In profondità Che spiegasse Un po' meglio Le ragioni Che ha spinto Questo personaggio A comportarsi Nel modo in cui Si è comportato Di sicuro Il contesto Ha influito Tanto Ed è una cosa Interessante Vedere come Le persone Che ci circondano Il luogo In cui siamo nati Il periodo storico Influiscano così tanto Sulla crescita Formazione Di una persona Questi erano quindi I libri Che ho letto In una settimana Sono veramente Molto molto soddisfatta Perché nonostante La settimana Sia partita Veramente Un po' sotto tono E appunto Io abbia avuto Tanto lavoro Tante cose da fare Sono comunque Riuscita Nel mio piccolo A portare a termine Questa challenge Fatemi sapere Se avete partecipato Anche voi Alla Reading Rush Come avete trovato Quest'anno La maratona Io devo dire Che ho trovato Molto interessante L'aggiunta del sito Anche se all'inizio Ci sono stati Un po' di problemi È stato molto divertente Aggiornare di volta in volta E appunto Ottenere queste spillette Questi piccoli riconoscimenti Per le varie challenge E nulla Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao